Salve a tutti. In questo video vi mostro tre foto che ho fatto io stesso questa mattina, molto velocemente, alle scie di condensa degli aerei. Questo non è un video che riguarda le cosiddette scie chimiche, ma riguarda la terra piatta. Ho già fatto dei video agli aerei che curvano, lasciando dietro di sé la famosa scia bianca. Questa volta non ho potuto fare alcun video, ma sono riuscito a fare delle foto in fretta. In queste tre foto si vede chiaramente la traiettoria dell'aereo, il particolare modo nell'ultima si vede che solo dopo aver preso quota l'aereo viaggia in traiettoria, apparentemente dritta nell'atmosfera. Insomma, basta commentare, guardate voi stessi. Vi ricordo anche questa volta di iscrivervi, lasciare, like, condividere, guardare gli altri video. Per ora è tutto, alla prossima.